Il primo dicembre la CISL invaderà Piazza San Francisco a Salerno. Sicuramente sarà una media di colori verdi, della CISL, della speranza, della dignità che i lavoratori cercano per dare dignità alla gente, ai cittadini, dare dignità al lavoro che garantisce i servizi, l'istruzione, la sanità, la cura e la tutela e la salvaguardia del sociale. Un appello che si fa un po' a tutti, anche alle forze politiche? Un appello che si fa a tutti e a tutti quanti hanno a cuore la salvaguardia e salvezza di questo paese. Abbiamo un territorio che si sta disgregando dai tagli lineari, dall'assenza dei contratti, dalla mancata organizzazione e riorganizzazione dei territori. E' di ieri la lettera di un trasferimento dell'Agenzia delle Entrate da Agropoli a Ballo, dimenticandosi che noi abbiamo una viabilità allo sfascio. Abbiamo persone efficienti e mezzi inefficienti. Quindi è una deportazione di persone che saranno costrette a viaggiare per quattro ore al giorno per raggiungere il loro luogo di lavoro. Vi è l'asceleratezza della chiusura di tutti i posti di cultura, musei e siti archeologici. Vi è l'asceleratezza di una sanità che si sta disgregando. E' di ieri la richiesta da parte della Regione, ASL e ad azienda ospedaliera di restituzione di 5 milioni di fondo per lavoro straordinario, dimenticandosi che solo con lavoro straordinario si garantiscono i livelli essenziali di assistenza. E' di ieri la richiesta da parte del MEF e della Corte dei Conti della restituzione di soldi ai lavoratori degli enti locali, specialmente del Comune di Salerno. Non è più possibile, non è più tollerabile che a fronte di tagli lineari, a fronte di assenza di contratte, che per il pubblico vanno da 6 anni, per la sanità privata vanno da 8 anni. Una sanità privata è un terzo settore che garantisce livelli essenziali di assistenza con un salario che è al di sotto del 20% di quello di un salario pubblico. Senza nessuna progressione di carriera, senza nessuna possibilità di valorizzazione del merito. Eppure si continua a chiacchierare di ulteriori tagli, non è più possibile. Noi chiediamo a viva voce il primo di dicembre e lo sciopero generale di tutta la CISL del pubblico impiego, del terzo settore, della sanità privata, poiché chi cura le persone, chi salvaguardia e tutela i loro diritti, chi li forma e li istruisce per il futuro, ha bisogno di rispetto. Merita più dignità che solo con il contratto collettivo nazionale di lavoro può essere garantita. Lunedì in piazza ha anche un momento forte di solidarietà. È un momento fortissimo di solidarietà. Noi stiamo tra la gente perché vogliamo essere noi parte integrante della gente, sentire i loro bisogni, tentare di dare risposta attraverso le nuove modalità di lavoro che noi vogliamo imporre, riorganizzando e razionalizzando i servizi, non chiudendoli, ma lasciandoli aperti a garanzia dei bisogni della cittadinanza. Mettiamo al centro la cittadinanza e quindi non possiamo che stare tra la cittadinanza e tra la gente. I momenti di solidarietà saranno la raccolta di cibo per la mensa dei poveri di San Francesco, saranno quelli di mettere a disposizione il servizio sulla piazza per quanti vorranno farsi visitare e per quanti vorranno far visitare anche i loro animali. Saremo tra la gente con un'animazione musicale, cercheremo di ballare per quelli che sono i nostri canti fondamentali, quelli del territorio, un territorio che si sta disgregando dal punto di vista culturale. Siamo tra la gente e vorremmo lasciare un segnale tangibile del nostro passaggio lasciando tutto pulito. Rimetteremo la piazza in ordine con tutti i nostri operatori che avranno delle maglie, che diranno io oggi sciopero ma lavoro per te perché è per te che io lavoro nel quotidiano e oggi non potrei farne a meno.